Siamo con Mauro Carboni e Massimiliano Pantaloni, due infermieri della Nursing Gap. Lunedì sono stati chiamati dal loro direttore generale per dirvi cosa. Ci ha comunicato che è stato chiamato in regione, che ora è affidato al commissario ad acta, al dottor Bonni, e ha ricevuto l'informazione che il San Filippone sarebbe stato disattivato. Subito dopo il direttore generale a fine giornata ha elaborato una nuova proposta che ha invece ipotizzato il taglio di 170 posti letto. Quindi nel giro di pochi mesi questo ospedale alla fine sarebbe chiuso? In sostanza, considerato che si tratta di un ospedale di alta specializzazione e rilevo nazionale, il taglio di 170 posti letto riguarderebbe tutte le unità operative specialistiche, quindi tutta la chirurgia, la cardiologia, la chirurgia vascolare, la maxilofasciate, la cinecologia ostetricia, la neomatologia. Praticamente resterebbe in un piede soltanto delle unità operative mediche che nel giro di poco tempo porterebbero il San Filippone e la definitiva chiusura. Dalla informazione che avete, quanti ospedali pubblici a Roma sono nella vostra stessa condizione? Allora, in questa situazione ci sono altri 5 ospedali nella città di Roma, i quali sono Oftamico, Fordanini, Spallanzani, Istiman e noi San Filippone e poi... E adesso si sono aggiunti dei tagli di 200 posti al pertino. Il totale dei posti letto che si perderanno è a quanto a meno? E i lavoratori di questo settore quanti sono a rischio a questo punto? I lavoratori qui a San Filippone in totale sono circa 2000, non sappiamo quanti sono quelli che riguardano le altre aziende ospedaliere che verranno toccare da questi obiettivi. I cittadini di questo municipio sono informati sul fatto che il San Filippone sta chiudendo? Ci stiamo informando, abbiamo iniziato una petizione di raccolta firme e bisogna dire che non solo la circoscrizione dove si è del San Filippone costa di più di 300 mila abitanti, ma un ospedale d'eccellenza per tutta Roma e anche extra regionale, poiché vengono persone anche fuori regione. Oggi pomeriggio siete stati in Regione Lazio a parlare con qualcuno del governo, una senatrice se non sbaglio dell'IDV? Sì, abbiamo avuto molto di essere ricevuti dalla senatrice tedesca dell'IDV che ovviamente ci ha dato delle notizie sconcertanti. Lei stessa ha avuto difficoltà ad essere ricevuta dal dottor Bondi che a quanto pare non ha nessun interlocutore valido se non il capo del governo che gli ha conferito il mandato. Avete fatto delle proposte voi come parte interessata a questi provvedimenti del governo? Le proposte purtroppo al momento non si possono fare perché loro vogliono assolutamente tagliare il sistema sanitario pubblico a favore sicuramente di quello creato, questa è la nostra idea. Qui stanno cancellando l'articolo della Costituzione italiana. Grazie, in bocca al lupo.